gentili telespettatori buona giornata si parla delle borseggiatrici ecco pd dalla parte delle borseggiatrici e il governo con la lega dalla parte di quello che è giusto è quello che è giusto se tu rubi i portafogli e devi andare in galera allora vi mi spiego meglio perché per non fraintenderci e non dire roma per toma allora è venuta fuori la storia delle borseggiatrici striscia la notizia indaga vengono fuori dei dei video che vengono messi in internet dove si vedono le borseggiatrici borseggiatori a milano a roma che rubano alla grande agli italiani in metropolitana negli autobus in giro e quello che sorprende è che la polizia le conosce le porta in caserma le rilascia poi le risorprende un'altra volta le porta in caserma le rilascia fino a che a un certo punto non le portano più neanche in caserma le conoscono già quando vedono che rubano non possono fare niente perché tanto saranno rilasciate perché rilasciate perché sono sempre in dolce attesa sempre costantemente uno dopo l'altro c'era una che aveva nove figli e guarda un po' era dieci anni che faceva questo lavoro quindi se hai dei minori eccetera eccetera vieni rilasciato questa stessa borseggiatrice intervistata da strisciano notizia dice gli italiani non mi piacciono e dice una brutta parola sono dei sono degli e poi dice però l'italia è un paradiso qui puoi fare quello che vuoi puoi rubare quanto vuoi che tanto c'è la polizia ti lascia stare ti lascia fare il tuo lavoro no io faccio il mio lavoro la polizia mi lascia fare il mio lavoro e quando staffelli le inseguiva pensate un po' si sono andate a rifugiare nella stazione di polizia è una cosa che solo raccontarla ti viene in mente l'italia povera italia c'è una ladra che viene inseguita da un telegiornale si va a rifugiare dalla polizia perché tanto la conoscono va bene non so cosa succede che c'è la proposta di della lega del centrodestra diceva beh se io ti becco che hai rubato e mi dici sono e dimostri che sei incinta che stai in dolce attesa eccetera eccetera va bene la prima volta magari ti lascio andare perché hai stai a sei sei in attesa ma la seconda volta che ti becco allora le cose cambiano vai in galera lo stesso e fai quello che devi fare dalla galera e ma c'è chi ha dei minori a casa pensate un po che questa borseggiatrice aveva nove figli ma in albania in kosovo non mi ricordo bene dove quindi il marito l'ha con nove figli che non lavora e lei che gli manda 500 mille euro al giorno perché riesce a portarsi a casa tra i 15 e i 30 mila euro al mese l'ha al paese anche con nove figli con quei soldi lì ci fai magari ti compri un po di case le affitti dopo un po torni al tuo paese vivi di rendita pensa un po vai a rubare in italia per poi vivere di rendita nel tuo paese naturalmente il pd insorge insorge perché non si può fare una cosa del genere che fai mi metti in carcere la borseggiatrice che continui a beccare a rubare tutti i giorni è una roba che non si può fare ecco idem ritirano una loro proposta che la maggioranza ha stravolto in commissione prevedendo che restino in carcere le donne in attesa se recidive nei reati la lega dice la ripresentiamo noi la legge loro difendono le borseggiatrici rom quindi il pd propone una legge la destra il centrodestra la modifica con quella modifica il pd dice allora no il centrodestra allora rifaccio io da capo e me la voto da solo perché siamo in maggioranza e passa e la lega dice loro difendono le borseggiatrici rom la domanda che io faccio è possibile che la sinistra sia sempre dalla parte sbagliata è possibile che la sinistra in qualche modo per quella teoria di garantismo non devi mettere il video delle borseggiatrici in internet sono in attesa allora non le puoi arrestare mai queste fanno uno dopo l'altro tu non le potrai arrestare mai finché poi hanno finito vanno a vivere di rendita al loro paese perché la sinistra il pd in qualche modo sono sempre fiancheggiatori dell'illegalità e i rave party ma poverini vanno solo a ballare e la borseggiatrice poverina in attesa e quello che occupa la casa gli allacciamo anche la luce perché più di 60 anni non trova lavoro ma io non lo so quel quel 20 per cento quell'italiano su cinque che vuota un partito che è sempre dalla parte sbagliata che cosa mi rappresenta dice se io ti becco già due tre volte che ti becco ti continuo a beccare a rubare mi continuo a dire io sono in attesa io ti metto in carcere e attendi in carcere attendi in carcere perché in carcere non si può essere in attesa no no non è non funziona io direi di sì non capisco quale sia il problema non capisco quale sia il problema vogliamo riempirci di borseggiatori e borseggiatrici che nessuno gli dice mai nulla cioè la metà poi tutti in metropolitana cercare di rubarti tu devi controllare chiami la polizia e ti dicono eh eh la conosciamo allora secondo voi ha ragione il centro-destra ragione il centro-sinistra io dico che ha ragione il centro-destra ma la mia opinione non mi sembra che sia un'opinione di un cattivo no di un mostro di un disumano secondo voi fermare una borseggiatrice la decima volta che la conosci da anni e continua a rubare impunita perché sempre in attesa volerla di volerla mettere in carcere e da come si dice e da disumani non mi sembra proprio non mi sembra di 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 avervi fatto un discorso disumano le borseggiatrici dicono che l'italia è un paradiso per chi fa questo tipo di di professione perché dalle altre parti non ci stanno mica troppo a pensare ti mettono in carcere punto e basta e allora vedi che i borseggiatori spariscono un po' alla volta li metti tutti in carcere dopo un po' non ce n'è più ma in carcere ci devi lasciare per 4-5 anni non per 4-5 giorni 4-5 anni poi quando escono non credo che vogliano continuare a rifare la stessa cosa il gioco forse non ne vale più la candela grazie a tutti arrivederci a presto